Hanno di che essere soddisfatti gli organizzatori di Coacellula, il festival delle band emergenti proposto da Domo, l'associazione dei donatori ossolani di Midollo Osseo. Dalle 18 di sabato 25 maggio fino a tarda notte l'area feste di Trontano si è riempita di giovani accorsi ad ascoltare le sei formazioni musicali alternatesi sul palco, presentate da Andrea Lavalle. Affollata anche l'area gastronomica, dove si è potuto cenare... Buon compleanno Rally delle Valle d'Ossolane! Vi aspettiamo venerdì 31 dalle 17.30 al Trocadero di Domodossola per La Storia Siete Voi. Un omaggio a tutti i vincitori e agli equipaggi di 60 edizioni del Rally Più Bello. L'ingresso libero e la possibilità di apericena con prenotazione. Vi aspettiamo!